sesta domenica del tempo ordinario Dal libro del Levitico Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o una macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore andrà gridando Impuro, impuro! Sarà impuro finché durerà in lui il male, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Parola di Dio Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa Ho detto Confesserò al Signore le mie iniquità E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti Voi tutti retti di cuore, gridate di gioia Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa Fate tutto per la gloria di Dio Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto Senza cercare il mio interesse, ma quello di molti Perché giungano alla salvezza Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo Parola di Dio Alleluia, alleluia Un grande profeta è sorto tra noi E Dio ha visitato il suo popolo Alleluia Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo venne da Gesù un lebroso Che lo supplicava in ginocchio E gli diceva Se vuoi, puoi purificarmi Ne ebbe compassione Tese la mano Lo toccò E gli disse Lo voglio Sii purificato E subito la lebra scomparve da lui Ed egli fu purificato E ammonendolo severamente Lo cacciò via subito E gli disse Guarda di non dire niente a nessuno Va invece A mostrarti a sacerdote E offri per la tua purificazione Quello che Mosè ha prescritto Come testimonianza per loro Ma quello si allontanò E si mise a proclamare E a divulgare il fatto Tanto che Gesù Non poteva più entrare pubblicamente In una città Ma rimaneva fuori In luoghi deserti E venivano a lui da ogni parte Parola del Signore Parola del Signore Parola del Signore